Ognuno di noi ha dei desideri e da oggi puoi creare una lista personale di sogni, aspirazioni, sapendo che la creazione potrebbe avere i suoi piani e i suoi tempi. Dobbiamo considerare che il processo interiore richiede una certa intimità. Il sogno deve essere una parte segreta e la nostra vibrazione deve sussurrare con l'energia universale. Attraverso questa meditazione ci permetterà a ciascuno di noi di diventare un alchimista di noi stessi e ci darà il potere di trasformare i nostri desideri in azioni concrete, con l'intenzione che una volta che vengono soddisfatti questi desideri ci rivolgeremo verso l'obiettivo più grande del nostro benessere assoluto, l'amore per noi stessi e per gli altri. Inizia a respirare profondamente e a lasciare andare tutti i pensieri, pensieri che arrivano e vanno. E ricordati che tu sei l'autore del tuo destino. Come essere umano, tutto quello che abbiamo creato è semplicemente una manifestazione della nostra mente. Trovati in una posizione comoda. Qui la parte più importante sei tu per creare quello che vuoi, per manifestare quello che vuoi. La meditazione è uno strumento per creare una sfera mentale. La meditazione ti permetterà di riequilibrare la tua energia, di trovare risposte che spesso cercavi da tempo e ritornare ad essere il padrone del tuo stesso destino. Appoggia le mani sulle gambe con i palmi rivolti verso l'alto e se ci sono delle resistenze nel tuo corpo, porta il respiro lì in quella zona. Siediti comodamente. Rilassati. Mentre ispiri, trattieni l'aria per qualche istante e butti fuori l'aria lentamente. E ancora un'altra volta. Prendi l'aria, trattieni per qualche istante e butta fuori. E ora, porta l'attenzione sulle tue gambe. Cerca di contrarre le tue gambe. Contrarre i tuoi muscoli delle gambe. Per qualche istante e poi rilassa. E ora, porta l'attenzione sull'addome. Contrai. Porta in tensione i muscoli degli addominali. Poi rilassa. E ora, porta l'attenzione alle spalle, alle braccia. Contrai i muscoli e lasciane andare. e ora porta l'attenzione sul volto. Contrai. Contrai i muscoli del volto e rilassa. Rilassa completamente i muscoli della tua faccia. Ora, l'ultimo passaggio. Stringi forti i pugni, contrai, contrai, contrai e lascia andare. E mentre ti rilassi completamente a ogni parte del tuo corpo, si sente rilassata. Questa sensazione si diffonde in tutto il tuo corpo. Dalla sommità della testa alle dita dei piedi. e ora ti chiedo di vedere te stesso che stai facendo questa meditazione come se puoi vedere il tuo corpo, puoi vedere il tuo volto, puoi vedere la tua postura. Vedi intorno a te quello che c'è e noti che il tuo corpo diventa sempre più leggero, sempre più rilassato e ogni momento che passa il tuo corpo sta diventando sempre più leggero. sta fluttuando, fluttuando a un metro, un metro e mezzo da terra. Guarda che stai fluttuando sopra di te. Ti senti sempre più leggero. E ora stai fluttuando a tre metri da terra. Guarda, guarda intorno a te cosa c'è e osserva come ci si sente lì. Osserva il tuo corpo dall'alto. E ora vai su a otto metri, otto metri da terra. guarda la tua casa, guarda la tua zona, la via e ancora, e ancora un po' più su, quindici metri da terra e guardati intorno. E osserva che sei a trenta metri da terra e vai sempre più su, leggero. È come se potessi fluttuare insieme alle nuve. E ora sei un po' più in alto, sempre più su. E osserva come ti senti su. a duecento metri e guarda l'intera area della tua casa, del tuo edificio, della tua zona. E ora vai ancora più su a trecento metri e osserva. Osserva come stai iniziando a sentirti, a muoverti nello spazio e comincia a viaggiare lontano. lontano lontano da quel posto che sei partito e inizi a viaggiare lontano, lontano per trovare un luogo tranquillo. e come ti senti a fluttuare nell'aria nello spazio e rapidamente ti stai allontanando dal posto dal quale sei partito e vedi, vedi una foresta folta, una foresta molto verde e bellissima e stai fluttuando sopra la foresta. Guarda giù, guarda la vallata sotto di te, osserva questa bellezza e ti attira come se avessi il desiderio di scendere e di esplorare questa foresta e scendi sempre più giù vai giù a 200 metri e stai scendendo a 100 metri e semplicemente ti avvicini sempre di più in questa vallata arrivi a 50 metri 30 metri inizi a percepire i suoni l'odore l'energia di questa bellissima vallata e semplicemente scendi giù a 3 metri 2 metri e ora sei in piedi in questa incantevole vallata puoi sentire il gentile gorgheggio dell'acqua che scorre gli uccelli semplicemente che emettono un loro canto senti osserva i suoni gli odori l'energia senti l'abbraccio di madre terra senti il suono della terra il suono amorevole che ti porta sicurezza centratura e con l'assoluta generosità che la tua vita è nutrita e nutre così come è stata nutrita nel grembo del suo amore il tuo stesso amore può fiorire ora e riporta nella tua mente un momento più amorevole più tenero della tua vita riporta la mente il momento più amorevole e tenero della tua vita rivivilo sentilo vedi che l'amore che senti si sta irradiando dentro di te e vedi che l'amore che senti si sta espandendo dentro di te e lasciare quest'amore questa energia si espande si affolge ad altre persone quelle persone care della tua vita e vedi che la tua volontà di includere il tuo amore è parte della tua volontà del tuo desiderio vedi intorno a te i tuoi amici le persone che ami le persone che conosci con i tuoi vicini le altre persone con cui lavori vedi chiaramente che è la tua abilità di amare è soltanto la tua volontà di includere quelle persone che per te sono importanti perché sei perfetta e perfetto così come sei capace e qui non c'è niente in particolare da fare c'è solo la possibilità e la capacità di entrare nel tuo amore l'amore è ciò che diventi diventa amore diventa amore e ti vedi come un fiore profumato nel diventare amore ti vedi un fiore che cambia colore che diventa straordinario un fiore profumato tutti cercano di essere come te e tutti cercano di essere simile a te e senti che l'energia del tuo amore si sta irradiando verso tutto tutto l'ambiente circostante senti che l'energia del tuo amore si sta irradiando verso tutto il mondo intorno a te e le stesse persone sono attratti dal tuo amore dalla tua fragranza dalla tua gentilezza dalla tua energia dal tuo amore che si sta irradiando intorno a te tutti sono attratti dalla tua fragranza dal tuo amore senti vedi percepisci che hai delle relazioni perfettamente armoniose con tutto ciò che fai perché tu hai la capacità di donare amore perché tu sei amore tutti sono attratti da te ciò che sei ciò che diventi tu sei attratto dalla stesso amore e ora fai espandere questa energia questa vibrazione che parte dal tuo cuore il cuore quell'elemento pulsante che entra in connessione con la madre terra la madre terra che è in grado di accogliere tutte le ferite del tuo passato è in grado di accogliere quei momenti difficili quei momenti che hai passato e stai passando perché la madre terra si chiama proprio madre terra perché è in grado di accogliere e sa come trasformare le emozioni sa come trasformare i pensieri e ora immagina che attraverso le tue mani stai espandendo energia la stai portando fuori di te e da lì in quel posto puoi mandare l'energia a quella persona che è là a casa che sta facendo la sua meditazione che sta praticando la meditazione che sei sempre tu ma tu da questo luogo stai mandando energia a quella persona come se potessi creare un ponte un ponte di luce luminosa e ti collega la pace e la serenità da questo ambiente al tuo ambiente come se ci fosse un filo conduttore che porta energia amore e serenità nella tua vita perché questo amore e questa energia la puoi espandere anche nella tua realtà nella tua quotidianità e ora da quella posizione dove tu sei porta l'attenzione al terzo occhio lì al centro della fronte e immagina davanti a te come se ci fosse una spirale una spirale che si muove lentamente dagli un colore e metti un suono dentro di te e ora porta questa spirale dietro la tua testa la senti davanti a te e dietro di te e ora riportala nella posizione iniziale portala solo davanti a te questa spirale di amore di energia pura e portala nel tuo cuore così facendo puoi unire la tua intuizione dalla mente al cuore pronta e pronto per trovare nuove possibilità nuove scelte nuove strade nuove alternative per la tua vita perché tu sei fatto di amore perché tu sei fatto di luce e ora lentamente col tuo tempo ritorna dal luogo dove sei partita hai creato un ponte tra te e la tua energia entra in quel fascio di luce da questa foresta collegati al fascio di luce per tornare rapidamente dal luogo che sei partita che sei partito ti colleghi rapidamente e ritorni ritorna nella tua stanza nel luogo dove hai iniziato la tua meditazione ritorna ritorna a vedere con i tuoi occhi ritorna a sentire col tuo corpo ritorna ad ascoltare la tua voce interiore ritorna qui in questo spazio sapendo che sei diventata e diventato più consapevole di questo percorso questo processo utile a unirti sempre di più alla vibrazione del cuore alla vibrazione dell'amore e di a te stesso a te stessa mi amo mi voglio bene mi accetto così come sono fai un bel respiro profondo e torna qua fai un altro respiro profondo inizia a muovere il tuo corpo le tue spalle inizia a muovere i tuoi pensieri verso la direzione dell'amore dell'energia vitale per la tua essenza per la tua realizzazione per costruire sempre di più ogni giorno la vita che desideri ti auguro tutto il meglio per la vostra ma